Non è mai stato così alto in Italia e in Sardegna l'allarme per l'invasione di cinghiali e di altri animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano greggi, assediano stalle e causano incidenti stradali nelle campagne con pericoli concreti per gli agricoltori e i cittadini. Una minaccia che oggi, dalle 9 a Roma in piazza Montecitorio, ha scatenato la più grande protesta mai realizzata prima con un blitz di migliaia di agricoltori, allevatori, pastori, provenienti anche dalla Sardegna insieme al presidente regionale della Coldiretti Battista Qualbu, oltre a cittadini, sindaci con i gonfaloni e rappresentanti dell'ambientalismo e dei consumatori, per far sentire la propria voce a difesa delle case e del lavoro con le storie di che è stato colpito, ma resiste nonostante la paura per l'incolumità della propria famiglia. L'obiettivo è denunciare, anche con eclatanti azioni dimostrative, un'emergenza nazionale che sta provocando l'abbandono delle aree interne, problemi sociali, economici e ambientali con inevitabili riflessi sul paesaggio e sulle produzioni, con le incursioni dei cinghiali che sono arrivati anche all'interno delle città, minacciando la sicurezza delle persone. Per l'occasione si è rappresentato il primo dossier Coldiretti, ICSE, sugli italiani assediati dai cinghiali, sui rischi per la sicurezza e la salute e le proposte concrete per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole e la tranquillità dei cittadini nel rispetto della natura.